ultimo clip ciao amici youtube eccomi qua con un nuovo video oggi ho deciso di mostrarvi la mia collezione di clipper che si trova in questa bruttissima busta ma lasciamo stare tutti questi bordello la busta che è brutta e partiamo con questo bellissimo video poi troviamo questo con la scritta pisa che me l'ha regalato la mia compagna di classe perché hanno capito e ci sta si è rotta la pietrina cos'è quella roba ah ma è smalto ah no non è smalto si è rovinato questo qua azzurro l'ho preso perché è il mio colore preferito non poteva mancare questo qui argento perché è un altro colore che mi piace sempre un po fuso sarà fatto un bel bombolombu probabile questo qui con un bel culo non lo so che cosa ci faccio nella mia collezione però un bel culo che culo poi questo qua con il panino o mi è stato regalato oppure l'ho comprato perché mi ricordava il mac visto che sono un amante del mac poi questo qua con gli occhiali cazzata assurda non ha senso un doppione bellissimo un altro doppione penso no è della collezione di questa qui quindi ne ho ben due ah 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 poi questo bellissimo una cacca che sorride poi troviamo un altro clip perché mi è stato regalato che è del buffissimo questo che cosa cazzo è un cane molto trasgressivo un cane molto trasgressivo bello ovviamente io amante dell'alcol come potevo non prenderlo eh però anche ha fatto un bel bravo quindi troviamo questo qui che però non fa parte della collezione dei clipper grandi perché è più piccola però ci sono i panini e rispecchia il mio amore per il cibo un altro unicorno che fa parte della collezione di questo qui ho fatto così questo ovviamente perché io amo il vino ed è bomba io amo il vino bianco e il rosso quindi non va bene per me questa domanda oh non ce l'ha a fare per accendere comunque questo qua è della stessa marca delle cartine per il tabacco ma dettagli quando l'ho visto ho detto questo deve essere mio subito infatti ho comprato ed eccolo qua questo qui scusate per il gesto l'ho preso per il colore perché il giallo fu un altro colore che mi gusta ovviamente il mio preferito rimarrà sempre l'azzurro e sono l'azzurro ovviamente io amante dell'alcol come potevo non prenderlo questo qua che appartiene a questa collezione ed è red questo qui che mi è stato regalato e appartiene alla collezione dei clipper piccoli quindi a questo qui ovviamente ci sono due figure diverse però appartengono alla stessa collezione non so se mi sono spiegato spero di sì comunque tralasciando questa questo qui che appartiene a un'altra collezione sono della stessa collezione ed è fatto così questo manca l'affarino per accendere però dettagli è troppo bello costa arancia che ti sorridono happy bellissimo un punto festa di compleanno un altro colore che amo questo qui con un cavallo wow con un bel cavallo questo che ha una bellissima sfumatura tra il blu e l'azzurro e mi piace un botto e appartiene alla collezione dei clipper piccoli con un bel camaleonte si sei tu si è lui questo camaleonte poi ovviamente questo qui perché non può mancare il leopardato le mie cose amore ultimo clipper tu 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 wow ultimo salute tigre mincio ultimo clipper tarararam che poi in realtà è una custodia mettiamola così di clipper vai che mosclero perché non ci scatto ah questo ok la piantoria sarebbe nero ed è della collezione di quelli piccolini però facciamo finta che sia un clipper la mia pancia abbrontonata ho fame comunque questo qua è il più figo che ho ragasuoli e ragasole dopo avervi mostrato questi clipper e dopo avervi mostrato quanto io sia cretina io vi saluto e ci vediamo al prossimo video viva il clipper yeah ok 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 ok